Questa corsa all'ippodromo di Agnano il premio Niau è un miglio per anziani di categoria F di 7 anni ed oltre abbinato alla seconda tris un corretornato gruppo numero 2 su Tatanka S c'è Vincenzo Luongo al posto di Gaetano Di Nardo che ha avuto un lutto in famiglia e ha dovuto scappare via e Tiller US con Luigi Sidi che sostituisce l'indisponibile Enrico Maisto problemi in fase di allineamento per quello che rimane distante dovrebbe trattarsi di top model par chiusura delle ali e ancora il buon maione con Sushi Bip che assume l'iniziativa imprime subito gran ritmo 13 e mezzo in lancio è scatenato il buon Crescenzo Maione quarto iniziale è volato in 28 e 9 al passaggio davanti alle tribune Rasa Bex in seconda posizione a precedere Tatanka S Rapsodi Adete treno esterno composto da Travalferm che si trascina Teodoro a mosso a largo Tatanka S con Vincenzo Luongo 43 e mezzo di 600 Tatanka gradualmente progredisce un po' di problemi di meccanica in curva di fatti sbaglia mentre il leader percorre gli 800 in 59 e mezzo non è entrata ancora in azione Teodoro che per il momento agisce in schiena a Travalferm adesso muove Rapsodia in anticipo su Traval 14 e mezzo il chilometro Sushibip ha le prese ancora con Tatanka 3 quarti di miglio in 1 e 29 scarsi adesso c'è la rottura di Travalferm Sushibip ha respinto gli avversari e prova la fuga fuga per la vittoria di Sushibip di dentro guadagna Rasabex di fuori Rapsodia Rasabex attacca Sushibip Rasabex di dentro Rasabex appariglia completamente Sushibip che però mantiene un lieve margine forse non c'era spazio per il passaggio interno i due per un attimo si sono anche agganciati almeno così è sembrato vedete da vicino nell'immagine ravvicinata la ruota di Rasabex che va di dentro a quella di Sushibip non può passare Rasabex e sul traguardo Sushibip transita per primo davanti a Rasabex anche qui un arrivo a sorpresa e per il terzo vedete il numero 11 Rapsodia Dete nel frattempo la giuria interviene immediatamente per rivedere il filmato della corsa prima di confermarne l'esito quindi tutto subiudice tutto nelle mani della giuria che dovrà decidere su quanto avvenuto in retta d'arrivo dovesse restare così sarebbe il triplo per Crescenzo Maione su Sushibip in un periodo eccellente il giovane e bravo Crescenzo Sushibip